La città della scienza sarà ricostruita dopo il violento atto criminale di un anno fa, questa è la risposta che devono dare le istituzioni, quindi su questo voglio rassicurare tutti quelli che in questi giorni hanno qualche perplessità su un punto fermo, siamo riusciti a trovare la Regione, con il Governo, le risorse, abbiamo avuto l'assenso dell'Europa, siamo riusciti a fare tutto in tempi record e ci viene riconosciuto, oggi non ci può essere neanche una settimana di ritardo, quel ritardo che non verrebbe compreso, quindi dobbiamo essere su questo immediati, decisi, ma con grande professionalità e con grande serietà a affrontare il tema, e allora perché, qualcuno si domanda, questo non è stato possibile fare, almeno firmare l'accordo base nella giornata di ieri, e questa perplessità è assolutamente legittima, ma il tema non è la ricostruzione città della scienza, è un altro tema molto serio, importante, e lo è per la Regione, lo è per il Governo, lo è per la città della scienza, lo è per tutte le istituzioni, anche per il Comune, che è il tema della bonifica di un'area, ma non della ricostruzione della città della scienza, che è un'area già bonificata. Bene, la differenza è qui, si può unire tutte e due le cose in un unico atto, questo il Governo gli ha detto che non era possibile, ma non che non sia una priorità alle bonifiche, la Regione rivendica insieme alle altre istituzioni questo tema centrale, però mettere insieme le due cose significa non fare né l'una né l'altra, come ha ricordato giustamente il Vice Presidente Professor Guido Trombetti, che ha gestito e ha guidato tutto questo accordo su città della scienza, e quindi che cosa proponiamo noi? Quello che propone il Governo, quello che propone città della scienza, due grandi priorità, ricostruiamo con l'accordo che vogliamo sottoscrivere subito, dove ci sono già i fondi, già c'è tutto, e nel resto chiedere al Governo di rispettare gli impegni insieme agli enti locali per fare una cosa fondamentale, bonificare Bagnoli, problema vecchio, troppo vecchio per non essere risolto, ma va affrontato con due atti separati, perché così ci chiede il Governo di fare, così è giusto seguire l'indicazione perché le buone volontà poi devono avere i fatti dalla loro parte, e quindi chiediamo a tutti, anche al Comune, di non isolarsi, ma di stare in squadra, di condividere con noi, con Città della Scienza e con il Governo questa strada per risolvere due grandi problemi, su queste priorità nessuno si può distinguere, il tema della ricostruzione per dare una risposta a quell'atto criminale va fatto con grande velocità e dare un grande segnale di recupero di credibilità delle istituzioni e dall'altro affrontare contestualmente il grande tema delle bonifiche dell'area di Bagnoli. Grazie.